Abbiamo cercato ovviamente di portare anche personaggi di un certo spicco come Ezekiel Kenboy che è più l'unico di campione olimpico, campione del mondo e poi il nostro azzurro Stefano La Rosa che negli ultimi giorni ha fatto veramente risultati importanti anche a livello internazionale addirittura a Londra, a Manchester è riuscito ad arrivare quarto dietro a Monfara, campione olimpico anche un personaggio importantissimo nel campo della Trierica. Grandi nomi per la 46esima edizione della scalata al castello, manifestazione podistica tra le più amate e longeve a livello nazionale. Arezzo pagherà come al solito il pegno dello stop al traffico dalle 12 alle 21 di domenica 27 maggio principalmente nelle vie del centro città dove si snoderà il percorso che torna quest'anno a comprendere Piazza Sant'Agostino. Ovviamente quest'anno ci saranno anche poi la chermesse del settore femminile con la giovanissima Battocletti che potrebbe insediare un po' gli atleti più accreditati dell'Africa, chiamiamolo così. E poi il campionato regionale dei 10.000 metri per quanto riguarda gli amatori master che sarà un corollario prima della manifestazione più importante. Quella diciamo internazionale, quella delle 18.15 per le femmine, per le 18.45 invece per gli uomini. E questo sarà un fine settimana in cui l'atletica sarà davvero protagonista. Ad Arezzo sabato 26 maggio ci saranno infatti al campo di atletica Enzo Tenti i campionati assoluti di società. Lo stesso sabato ma di pomeriggio i campioni che poi parteciperanno alla scalata saranno coinvolti in un dibattito sull'importanza che ormai ha assunto questo sport. L'opportunità anche di un confronto, quindi ci sarà un dibattito, potranno partecipare tutti, quindi chi vorrà vedere i campioni potrà farlo. E quindi l'atletica, certo lo stadio ci dà questa grande opportunità, ci diamo da fare per vedere di aumentare anche l'afflusso turistico. Poi i campionati che ci sono nazionali la settimana dopo richiameranno qualche migliaio di persone e poi a fine giugno di nuovo, quindi l'atletica è chiaramente uno sport fondamentale, uno sport anche in grado di attirare tanta gente, quindi ci diamo da fare anche per la nostra città.